Volevo fare un saluto a tutti voi, in particolare alla mia amica che mi segue che si chiama Francesca Salo che non riesce a collegarmi con il mio Skype e volevo salutarla. Poi volevo sapere come stavate e augurarvi buona fine estate sperando che il tempo migliori. Ok, non mi sono fatto sentire in questi giorni però sono sempre con voi insomma. E volevo farvi un breve saluto e augurarvi una buona serata e se potete andate a vedere i concerti che ce ne sono tanti in giro. Un bacio a tutti i miei amici YouTube e al prossimo video dal vostro Samuele. Ciao ciao! Ciao! Ciao!